Ben ritrovati in studio. Ben ritrovato per una nuova puntata di Bocce Forum e ben ritrovato a Maurizio Castiglioni, ancora una volta in studio insieme a noi, ben ritrovato. Allora, di che cosa parliamo? Prima di tutto delle prime gare in programma con il mese di settembre, con il mese di ottobre, insomma ripartono anche tante gare autunnali, giusto? Sì, quella di Gorla, ci sono in calendario bene otto gare, otto o nove gare, quindi si riparte un pochettino alla grande. Erano tutti spaventati, ma chissà cosa succederà a ottobre e poi in realtà sì, ci sono stati, insomma, delle cose sono successe. La mia sensazione è che si parla sempre di meno di Bocce e si parla sempre di più di sistemi operativi, dei vari cambiamenti che stanno apportando, di questo borsellino che le società hanno dovuto aprire, quindi i giocatori devono pagare tutti prima, insomma si parla di tutte queste cose qui e si parla sempre meno di Bocce. E appena finito la gara della Lunatese a Gorla, ha vinto Paone, e lì sono andato alle finali e per quella sera, insomma, era pieno. Io ho rivisto il vecchio ambiente, che non è mai sparito in realtà, però tutte queste problematiche, chissà a ottobre chi riaprirà, chissà a ottobre chi non si affiliera più, e infatti abbiamo avuto anche delle, purtroppo, delle perdite. Tu parlavi infatti di sistemi operativi e di borsellino, di pagamenti. Ricordiamolo brevemente, ne abbiamo già parlato più volte durante le scorse puntate. Da un lato un sistema operativo nuovo, quindi una piattaforma attraverso la quale è possibile ovviamente seguire le gare, iscriversi, molto comoda, ma ovviamente un po' difficile da utilizzare per persone che non sono più giovanissime, che dunque non sono avvezze alle tecnologie. Dall'altro lato il fatto che la federazione chiede un pagamento anticipato a coloro che desiderino iscriversi a queste gare, piuttosto che ai campionati, quindi sono tante difficoltà anche sul piano economico. Difficoltà però, vedi, questa chiarezza ci voleva, ad esempio il discorso dei pagamenti anticipati. Molte società passavano dei mesi a rintracciare alle persone che non si presentavano alle gare, quindi lasciavano questi famosi forfè. Quindi adesso da quel punto di vista di quel problema non ci sarà più. Cioè in alcune gare magari c'erano due o tre forfè, la società doveva anticipare anche per loro i soldi che poi prendevano chi vinceva la batteria. Invece tutto questo non ci sarà più, perché chi si iscriverà alle gare avrà già pagato la sua società, non riceveranno i soldi vincitori di batteria, ma tutto si chiuderà, diciamo, nelle serate finali. La tracciabilità, insomma, bisognava andare prima o poi verso questa chiarezza. Il problema qual è? È che è arrivato probabilmente nel momento peggiore, in cui le varie società sportive, bocciodromi, avevano già i loro problemi di sostentamento, quindi c'era già psicologicamente questa, ma cosa facciamo, andiamo avanti, non andiamo avanti. Quindi queste cose, che secondo me sono positive, sono arrivate in un momento molto delicato per le varie società sportive. Hanno appesantito la gestione. Hanno appesantito la gestione. Poi io sono molto preoccupato perché se una società come la Carnagese chiude i battenti, lì il problema è stato di un'altra natura, nel senso che, da quello che ho capito, il presidente Enzo si è trovato da solo, perché poi alla fine ognuno ha la propria vita, ha i propri problemi, però in blocco si sono un pochettino, hanno mollato tutti e lui si è trovato da solo e ha dovuto chiudere questa società. Perché mi preoccupo? Perché era forse una delle poche società sportive dove c'erano veramente dei giovani, cioè quarantenni, massimo cinquanta, ma tutti, proprio tutti, anche giocatori giovani dicendo. Quindi si è avuto dei problemi anche con la società lì, ripeto, per problemi diversi, però insomma la cosa incomincia a farsi sentire. Certo, anche perché spesso e volentieri parliamo di società piuttosto che proprio di strutture, di impianti che hanno problemi e rischiano di chiudere. La Carnagese che ancora, pur essendo stato io vicepresidente, non si capisce ancora, anche se la mia ricetta, io l'ho già detta, la Fratelli d'Italia che è una delle società più sostanziose, insomma, più attive, che ha dietro degli ottimi personaggi e infatti non a caso organizza in quel posto. Dovrebbe essere lei a farsi carico di prendere in gestione quel bocciodromo, trovare una mediazione, un accordo con la combattente di Crenna e andare avanti, capito? Non si capisce, non si capisce. Nelle scorse settimane proprio di Crenna abbiamo parlato anche con Pacchiarini di Albizzate, la bocciofla di Albizzate, lui parlava di Crenna come un esempio, diciamo, il fatto che i comuni, le amministrazioni comunali debbano intervenire per sostenere questi impianti che sono un po' fiorell'occhiello delle città, in particolar modo appunto Crenna-Gallarate, comunque un impianto che ha ancora un numero di piste importanti, quindi comunque che meriterebbe una maggiore attenzione. Dall'altra parte l'amministrazione comunale risponde che i soldi a disposizione sono quelli che sono, che comunque loro in tempo di crisi si trovano a sostenere varie attività sportive. Forse dovrebbe intervenire la federazione. Ma io un po' di anni fa ero riuscito, grazie all'amico, era capo dei vigili Emiliano Bezzonna, avevo parlato di questa cosa qua, lui si era interessato e siamo riusciti per un paio d'anni a far avere 5.000 euro al bocciodromo, poi sono scesi, mi sembra, a 3.500, poi sono sempre a calare e adesso mi sembra che siano due anni che non ha. Quali erano fondamentali, erano importanti per il bocciodromo? Perché poi sono quelle che ti fanno la differenza, capito? Sì, magari per pagare il riscaldamento, diceva ad esempio Pochierini. E' una delle voci più delicate, diciamo delicate, nel senso che poi alla fine entrate e uscite, perché poi le entrate sai, a caffè, bicchiere di vino, spuma, insomma è difficile far restare in piedi questi vini. Per quello che ti dico che queste nuove regole, secondo me giuste, sono arrivate nel momento più sbagliato. Poi l'altra cosa che mi fa, faccio un po' il dago spie della situazione, L'altra cosa che mi dà un po' fastidio è che alcune società dicono, si sono incontrate per ipotizzare di cambiare federazione, no? Quindi andare, togliersi dalla FIBA, andare alla CSI, adesso non so che cosa ha. E allora questo non va bene per tutto il movimento, cioè lo posso capire ma non va bene. Questo consentirebbe di, diciamo, bypassare tutto quello che abbiamo detto prima, ma quindi sistemi operativi, pagamento anticipato, cioè io passo da un'altra parte con una gestione ancora vecchissima. Io non sono esperto, ma se vai anche in un'altra federazione, secondo me, no? Una burocrazia, un certo modo di mettersi... Per me, io ho una mia risposta, ce l'ho però, è mia. Si sono un po' stancati di questo atteggiamento della FEB, che magari quando il buon Bianchi, il nostro Presidente, chiama Roma per sensibilizzare determinate problematiche che ci sono, no? Alla base sul territorio, magari è così prendere o lasciare. Però non risolviamo col fuggi-fuggi, hai capito? Anzi. Il Guido stesso diceva, cavoli, dobbiamo stare tutti uniti, perché se si pensa di andare a destra o a sinistra, così di certo non risolviamo più niente. Abbiamo messo a disposizione il grande, chiamatissimo in questo periodo, Diego Guerrieri, che si è messo a disposizione di tutte le società e ha proprio... e si è messo a... ha fatto il docente, no? E quindi si è messo a disposizione per affrontare tutte le varie problematiche, per dire come si poteva fare, vi dicendo. Tipo soprattutto contabili. Chi possiamo fare? Dobbiamo per forza fare così, a Roma ci impone di fare così, noi facciamo riferimento a Roma, possiamo anche battere i piedi, però alla fine stiamo uniti e risolviamo i problemi. E noi, comitato, li aiutiamo a risolverli. Non fuggi, fuggi, allora andiamo, allora... Posso capirlo, eh, che sia fastidiosa questa cosa qua. Però dobbiamo stare uniti, insomma. Anche perché questo, da fuori, da un'immagine non positiva, quindi non aiuta di certo ad avvicinare persone nuove, spesso parliamo dei giovani, ma... Come dei massoni che si incontrano dai che andiamo, non va bene, secondo me non va bene assolutamente, no? Sono anche di parte perché sono un consigliere provinciale, però anche se non lo fossi, voglio dire, questo atteggiamento per me non va bene, non ci porta da nessuna parte, ci impoverisce ancora di più. Certo, questo assolutamente. E poi, appunto, si parla spesso della necessità di coinvolgere persone nuove, soprattutto giovani, insomma, fare così non aiuta, anzi, forse proprio l'utilizzo di nuovi sistemi operativi e di una piattaforma internet potrebbe aiutare ad avvicinare delle generazioni, diciamo, più fresche. Ma ha preso il meccanismo, no? Voglio dire, è perfetto, no? Quindi uno si iscrive, paga subito, non deve più pensare a niente. Se vincerà poi arriverà in finale, riprenderà i soldi. Tutto è tracciato, tutto è tranquillo, sereno, invece prima era tutto una cosa che è andata avanti per tantissimi anni, ma forse era anche gioco forza, perché l'ambiente era quello, no? Si parla di gioco delle bocce, era quello. E tra l'altro non aiutava già le bocciofile in difficoltà, perché se le società si trovavano ad anticipare i soldi, figuriamoci, insomma, anche proprio a livello economico non è un aiuto. Da questo punto di vista qua, la società dovrebbe essere, sono i giocatori che magari, no, l'anziano, che devono magari si iscrivono a cinque gare e devono anticipare i cinque gare, no? Ci sono tanti pensionati, magari delle persone che hanno anche dei problemi oggettivi ad affrontare magari queste spese. è più scomodo, però la società è più tranquilla, sinceramente, la società è più tranquilla. Certo. Va bene, insomma, speriamo che le cose si sistemino. La vera tragedia lo sai qual è? Qual è? Che non sto giocando in questo periodo. Eh, infatti... Perché? Sono arrivate varie lettere chiedendoci il tuo ritorno sui campi di bocce. Mi cerca, no, mi cerca. Ah, perché la Crenese non si capisce, io sono iscritto alla Crenese, non si capisce che cosa fa, mi sembra che non si sia affiliata e quindi dovrebbe liberarci tutti. Io dovrei trovare un'altra società, dove andare, l'avrei anche individuata, ma finché non risolvo quel problema, io e altri cinque, sei giocatori che ci sono lì all'interno, però contiamo di risolverlo, di risolverlo a breve. E trovare un socio, perché a oggi, lo voglio dire, in quale... Non ho ancora il socio. Tu mi dirai, ci sarà un perché? Infatti, no, no, mi sono trattenuta. Mi sono trattenuta, infatti. L'ho letta in faccia, l'ho letta in faccia. Mi sono trattenuta. Fatti delle domande, fatti delle domande. Va bene, Mauri, grazie mille per questa chiacchierata. Tra l'altro, nella puntata precedente, mi ha sostituita Mattia Andriolo, come sempre, mi salutate in studio, quindi in questo caso, ricambiamo il saluto e lo ringraziamo. E grazie ancora per la tua presenza, ci ritroveremo sicuramente presto per parlare purtroppo di questi problemi, ma anche di gare e dare notizie positive. E come direbbe Guido, viva Varese, viva le bocce. Ecco, benissimo, viva le bocce. Grazie mille e ovviamente la prossima puntata. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.